Chiudono gli ultimi articoli questo mese, cito però le più importanti che è stato un lavoro insieme al processo di laurea, ci mandavamo mail Petrolicious perché sono arrivati negli Stati Uniti, l'altro ieri notte ho scoperto stamattina Massimo Del Bo ci ha portato sia su Octen ma anche su The Trust Car, è una testata internazionale di Lussemburgo se non sbaglio, poi stiamo aspettando dalla Germania e dall'Austria che erano ospiti e poi le testate nazionali quali ruote classiche, stiamo aspettando in moto classiche che arriverà a fine mese e speriamo di raccogliere avanti ma soprattutto grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tutti e due rappresentano un po' quello che è stata la passione, uno è solo sulla Trieste Oficina, invece quello ufficiale è di tutta la settimana anche vostra. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.